ciao ragazzi vi va di farmi compagnia mentre faccio uno spuntino sano mangio un arancio mangio un arancio e anche con cari Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La cosa divertente che mi sento particolarmente osservata da Bea Grazie a tutti. Buonissima questa arance. Purtroppo l'audio non è granché perché non ho il microfono ma ho solo quello della videocamera. Comunque spero che sia decente. Forse quest'anno ho mangiato più arance di quante ne abbiamo mai mangiato in altri anni. Buonissima. Buonissima. Vi faccio andare a ridere perché bella mi sto avvissando. Ma ora vi faccio venire un po' di voglia d'arancia. Buonissima. 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 Buonissima.